ma ciao allora oggi vi parlo di monoi allora io adoro il monoi allora intanto vi parlerò di questi prodotti perché il pack sarà tutto nuovo e alcuni prodotti saranno nuovi nuovi altri rimarranno uguali con l'inci un po migliorato allora andiamo a vedere un po parliamo un po di questo monoi che ci piace tantissimo allora per chi non conosce il monoi vi dico che è una fraganza amata da tutte le donne quindi e non solo anche dagli uomini allora il monoi viene fatto dal fiore di tiare per capirci la profumazione di questo fiore è simile al gessomino quindi molto dolce e poi viene fatto macerare all'olio di cocco pensate un po che profumazione fantastica che questa linea monoi direi che è veramente unica allora adesso vi descrivo tutti i prodotti perché abbiamo prodotti per preparare la pelle alla brozzatura prodotti per lavare la nostra pelle prodotti per trattare la nostra pelle e prodotti per prolungare la nostra e quindi questo profumo di monoi allora step 1 per quanto riguarda preparare la pelle abbiamo lui questo è uno scrub corpo pensate un po già il colore stesso è fantastico dorato allora questo scrub corpo praticamente all'interno questi microgranuli sono i gusci di cocco pensate un po sono frullati e messi all'interno è un prodotto fantastico questo lo utilizzeremo già da adesso perché è una profumazione fantastica e poi uno scrub corpo ad olio quindi molto molto leggero adesso vi faccio vedere un po come risulta cioè come risulta praticamente va andiamo ad esfoliare il nostro corpo con delicatezza fantastico meraviglioso poi fa un odore fantastico e ha come obiettivo anche quello di ravvivare la bronzatura questo prodotto novità per quanto riguarda lavare il nostro corpo abbiamo lui questo bagno doccia corpo e capelli pensato un po praticamente questo bagno doccia è tutto rinnovato l'inci è migliorato perché è senza solfati quindi praticamente fa meno schiuma rispetto a quello di prima ed è anche adatto proprio per pelli sensibili perché essendo proprio senza solfati è proprio delicato quindi un bagno doccia molto molto delicato amato sia dalle donne che dagli uomini come olio invece quindi sullo step trattare abbiamo questi due oli fantastici allora questo è un olio puro quindi il 97 per cento di olio puro infatti lo vedete così solidificato perché proprio un olio puro e col freddo praticamente diventa così ma basta metterlo in una fonte di colore e praticamente diventa un olio allora vi dico per cosa serve questo olio perché lo possiamo utilizzare per qualsiasi cosa intanto è un olio che va a nutrire la nostra pelle quindi lo possiamo utilizzare dopo la doccia però essendo un olio puro va a lasciare un po di effetto unto sulla nostra pelle ok può essere utilizzato anche per i massaggi direi top ma non solo può essere utilizzato anche come impacco per i nostri capelli quindi prima della doccia andiamo a fare questo impacco sui capelli e praticamente dopo facciamo il nostro shampoo abituale ovviamente facciamo stare un po' di minuti facciamo il nostro shampoo poi abituale praticamente quei capelli saranno profumati e nutriti allora mi stavo parlando di questo olio secco sublimatore che a differenza dell'olio tradizionale questo olio secco sublimatore intanto un olio secco quindi è un olio che si assorbe facilmente non lascia l'effetto unto adesso lo proviamo insieme quindi è possibile utilizzarlo dopo dopo la doccia per andare a nutrire e a dare luminosità alla nostra pelle guardate quanto è luminosa la mia mano cioè io adoro questo prodotto poi un profumo di monoi fantastico quindi pensate d'estate dopo la doccia mettere questo olio secco sublimatore va proprio ad illuminare la nostra pelle ma io questo olio lo utilizzo anche nelle ore meno calde per abbronzarmi un po di più per dare un tocco di colore dorato alla mia pelle però mi raccomando si può utilizzare nelle ore meno calde ok quindi nelle ore meno calde possiamo utilizzarlo per dare un tocco di colore alla nostra pelle perché non vi dico che non ha fattore di protezione quindi non ci va a proteggere quindi lo dobbiamo utilizzare nelle ore meno calde per dare un tocco dorato alla nostra pelle poi presento questo prodotto nuovo è uno spray per i capelli che adoro questo prodotto novità proprio nuovo nuovo è spray per i capelli effetto beach pensate un po che da proprio l'effetto beach sui nostri capelli adesso lo metto un po con voi proprio dall'effetto bagnato sui nostri capelli guardate che meraviglioso c'è fantastico proprio da mettere sui nostri capelli pensate d'estate questo questo spray che è fantastico sui nostri capelli magari lo portiamo anche al mare in spiaggia in piscina meraviglioso effetto beach è una novità c'è fantastico ha un odore meraviglioso e poi per finire c'è lui il nostro profumo monoi è una fraganza strepitosa unica perché è veramente bellissima una fraganza estiva un profumo che si differenzia ecco direi proprio questo lo metto un po con voi cioè è meraviglioso c'è proprio questa fraganza estiva meravigliosa che fa venire proprio voglia di estate cioè sono dei prodotti estivi fantastici allora vi ricordo che tutti questi prodotti che io vi ho presentato che sono veramente ottimi con una profumazione fantastica potete ordinarlo in un set dal 23 aprile a soli 50 euro quindi approfittatene se vi registrate vi arriva il pacco a casa quindi potete solamente ordinarlo registrando vi arriva il pacco a casa con lo sconto del 15 per cento quindi le andreste a pagare 43 euro circa e in più vi arriva il pacco a casa senza pagare le spese di spedizione quindi approfittatene approfittatene assolutamente un bacio ciao